ciao ragazzi ribenvenuti sul canale con questo nuovo video dedicato all'audi s1 come avete visto dal titolo e sono qua da dimsport con edo che avete già visto in altri video sul canale dove siamo andati a vedere i vari test sui banco prova come funziona un banco prova si è andati a installare il modulo rapid fr sulla mia 500a abart eccetera e siamo qua oltre per fargli vedere la mia audi s1 che ho comprato nuova da concessionario non avevo mai visto non l'aveva mai vista cosa ne pensi che davvero bella e soprattutto non hai aspettato niente a modificarla si abbiamo messo un assetto cerchi nuovi da 18 una griglia ovviamente tutta nuova vetri neri eccetera un assetto uno scarico un po più libero sul centrale però siccome l'ho acquistata concessionario voglio ancora tenerla tra virgolette stock a livello di motore e componenti infatti comunque ancora montato il cat totalmente originale e quindi insieme a edo abbiamo deciso e preso diciamo la soluzione del modulo aggiuntivo so ragazzi che qualcuno che mi segue da un bel po avrà fatto un salto di 10 metri dal divano quando ha sentito che vanno a installare un modulo aggiuntivo sulla mia audi s1 prima di andare a fare gli stage ma vi ricordo prima premessa che dim sport è un'azienda che lavora da 30 anni soprattutto sui banchi prova e sulla strumentazione per andare a ricalibrare la centrale della vostra auto ovviamente si autostock con tutti i vari stage per poi andare a lavorare anche sui moduli aggiuntivi come piccolo spoiler il tpm che andremo a installare sulla mia audi s1 che lavora su tre sensori si auto adatta per quanto riguarda appunto l'utilizzo e tutti i vari sensori e tutto ma facciamo un passo indietro perché andiamo a installare un modulo aggiuntivo su questa vettura marco acquistato quest'auto da concessionario questo che cosa vuol dire che ha una garanzia sul motore e su alcuni componenti della vettura il modulo aggiuntivo entra in gioco proprio in queste occasioni qua quando appunto si ha un'auto completamente nuova in cui per esempio cia sia una garanzia completa sulla vettura quindi andremo intaccare la garanzia in caso di rimappatura della centralina oppure in nei casi in cui appunto come sta facendo marco vuole andare a fare per ora una preparazione soft quindi non è necessaria per forza una rimappatura della centralina andiamo installare un modulo aggiuntivo che mantiene inalterate le garanzie della vettura e plug and play quindi quando vogliamo lo attacchiamo e lo stacchiamo dalla nostra vettura e soprattutto tutti i moduli aggiuntivi che di sport fornisce sono già precalibrati questo che cosa vuol dire che una volta che vi è arrivato a casa non dovrete fare una calibrazione su misura apposta ma vi viene già calibrato e tutti i moduli che noi vendiamo vengono prima testati a banco sulla vettura trovata la ottimizzazione specifica per quel veicolo e poi vengono direttamente spediti ai nostri clienti. Un piccola premessa ragazzi per chi ha l'Audi S1 voglia andare a fare questa elaborazione tra virgolette molto tranquilla prima di andare a fare tutti gli stage perché chi conosce bene l'S1 quando si vanno a superare con uno stagionno con scatto e tutto i 300 cavalli un bel po' di coppia la frizione originale inizia a cedere quindi bisogna andare a cambiare anche quella quindi ho deciso di provare questo modulo aggiuntivo TPM da Dinsport e dopo adesso andremo a effettivamente vederla sul banco prova voglio fare questa lavorazione per non andare a cambiare la frizione con una maggiorata eccetera quindi fare una cosa molto più tranquilla. Adesso ragazzi stiamo calibrando gli assi del banco rulli per fare la rullata completamente originale della mia S1 sono curiosissimo di vedere quanti cavalli eroga all'interno ho messo una benzina 100 ottani e 10 quindi dovrebbe erogare il massimo della potenza sfruttabile appunto con motore stock si ho fatto lo scarico ci ho messo un filtro a pannello nulla di invasivo e sono veramente molto molto curioso guardate che bella e soprattutto sono curioso di sentire il sound ragazzi prima di farvi vedere poi la rullata stock andiamo a fare un piccolo unboxing dei due moduli oggi sulle S1 di Marco andremo installare ben due moduli rapid fr che ormai conoscete direi abbastanza bene e rapid TPM che invece secondo me è la modifica che oggi Marco aspetta di più dentro il nostro packaging cosa troviamo prima di tutto il nostro cuore pulsante quindi rapid TPM sotto abbiamo il nostro cablaggio da che cosa è composto il nostro cablaggio pressione collettore di aspirazione pressione turbo e giri motore tutti questi tre connettori ci permettono di fare una modifica completa e diciamo il più funzionale possibile per incrementare le performance di quest'auto adesso ragazzi siamo qua col tecnico Alin che vi presento che ci spiegherà bene o male quella che è l'installazione di tutti i vari connettori adesso ci troviamo nel vivo della nostra installazione insieme a Marco ci tenevamo a farvi vedere quanto comunque fosse semplice l'operazione di installazione in quanto qui troviamo uno dei nostri sensori a cui dobbiamo andare a collegarci quello che noi facciamo con rapide semplicemente scollegare l'originale che legge effettivamente il valore della pressione interporre il nostro che leggerà lui ora il valore verrà modificato dalla centralina e rispedito alla centralina originale tramite il connettore attuando quest'operazione noi possiamo leggere il valore effettivo della pressione modificarlo e mandarlo alla centralina in questa maniera la centralina compenserà il mancante dandoci in più le prestazioni che ci servono ragazzi ci tenevo ovviamente a dirvi anche che avete la possibilità con il mio codice sconto mjc10 di andare ad acquistare sul sito di rapid che vi lascio qua sotto in descrizione il rapid gpm il rapid fr sia compact che normale e tutti gli altri moduli a disposizione sul loro sito esatto e soprattutto noi vi stiamo facendo vedere l'installazione come poterla probabilmente anche fare a casa però in caso se non siete molto pratici potete andare anche da degli installatori che come dicevi tu esatto perché sul nostro portale potete selezionare il modello della vostra auto e una volta selezionata avete la possibilità di decidere se installarlo in autonomia o andare proprio da una delle nostre officine autorizzate e andare a fare direttamente l'installazione da loro in totale sicurezza perfetto adesso il modulo tpm è stato montato la strana come l'avete visto prima sta finendo di legare la macchina andremo a rullarla prima da stock e poi con il modulo attivo cosa molto figa io ho richiesto uno switch che ci dà la possibilità di andare a spegnere e ad accendere il modulo quindi per questo riusciamo a rullarla adesso sia con potenza stock che fa un potenza nuova col tpm stock che fa un po' Grazie a tutti. 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 Mi raccomando ragazzi se l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, trovate qua sotto i miei link dei miei tutti i vari social come TikTok, Instagram eccetera. Trovate anche il link dei video, trovate anche il loro sito per andare in caso ad acquistare, se volete ho un caso anche a dare solo una curiosata a questi dispositivi. Vi ricordo il codice sconti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!